La Banca del Cilento di Sassanevallo di Diano e della Lucania archivia il primo semestre del 2018 con risultati davvero importanti e con utili superiori ai 2 milioni e mezzo di euro. Ma soprattutto continuando a svolgere il suo ruolo di banca del territorio come ben evidenziano il presidente Pasquale Lucibello e il direttore generale Ciro Solimeno sul sole 24 ore. Direi risultati veramente importanti quest'anno che segnano proprio l'entrata al regime dell'intera banca e quindi in particolare delle filiali di questo territorio del Vallo di Diano perché finalmente si sono integrate non solo da un punto di vista operativo ma anche come risultati economici e reddituali. Devo essere sincero, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. È un risultato importantissimo che supera di gran lunga i 2 milioni e mezzo di euro e che ci fa ben sperare per quest'anno visto anche che sarà l'ultimo anno in cui la banca presumibilmente opererà in modo autonomo prima di entrare nel gruppo. E quindi contiamo di entrare nel gruppo dalla porta principale e dicendo la nostra e con la sicurezza che continueremo a fare la banca che assiste i territori. Non è un caso se il quotidiano economico nazionale punta i suoi riflettori sull'istituto bancario con sede a Vallo della Lucania. La sincerità è stato il presidente che ha voluto rimarcare con forza il ruolo storico che hanno avuto e che hanno e che dovranno avere le BCC per i territori in cui operano. Perché è il grande dubbio che c'è proprio nella nostra clientela, nei nostri soci è proprio questo se le banche di credito cooperativo continueranno ad essere le banche di prossimità, le banche di sostegno vero al territorio. Questa mattina vi faccio un esempio proprio calzante. Mi sono trovato nella filiale di Sala Consilina e fuori alla porta mi ha fermato una signora, un'imprenditrice. La guarda ha detto direttore io la devo solo ringraziare perché voi nel momento di bisogno ci avete dato sempre una mano. Io gli ho risposto che lei è la più bella testimonianza dell'anticiclicità del nostro sistema per la quale noi abbiamo sempre combattuto e sempre combatteremo. In cosa consiste tutto questo? Consiste nel fatto che anche nei momenti di crisi, nei momenti di necessità, la banca di credito cooperativo, in particolare la banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, non chiude le porte, le mantiene aperte e far sì che chi ha necessità, ovviamente in modo coerente e corretto del credito, non trovi la porta chiusa, anzi trovi sempre quello di cui ha bisogno.